Questa esperienza, come le altre, dato che non è stata la prima, è andata molto bene, il lavoro è stato abbastanza profondo, intenso, con un sacco di sorprese e tra l'altro per me, che sono una persona che comunque avezza, tra l'altro anche andare oltre i propri limiti, però è riuscito a trovare altri limiti e soprattutto si è sorpreso di alcune sue modalità. Questa esperienza mi ha dato un rapporto ancora più prominente e più importante sul come vivere determinate situazioni, ma ripeto soprattutto il quotidiano, perché io sono abituato a lavorare sempre sotto stress e in crisi, però alla fine come tutti tendiamo a perderci proprio nel quotidiano. Io ho imparato a riconoscere dei miei lati che mi davano delle pesantezze, quindi ho imparato ad alleggerirmi, o almeno a vedere e a rendermi più leggero e a godere di più delle attività, e non aspettare anni per riconoscere poi di aver vissuto bene una bella esperienza. Queste esperienze le consiglio perché per chi vuole effettivamente ottenere e riuscire a vivere a pieno, senza dei filtri dati da condizionamenti, da un sistema di credenza che alla fine è limitante, che non ti fa vivere felice qualsiasi situazione. Quindi io credo, come nel mio lavoro, che questa cosa qui sia fondamentale, cioè cercare appunto di riuscire a cogliere delle situazioni il meglio. Già prima di partecipare io ero comunque preoccupato, quindi ero un po' teso, e effettivamente anche dopo di che non sono completamente rilasso, anzi sono motivato, non all'americana pompato, ma ho individuato altre nuove aree di lavoro dove posso comunque continuare a crescere, per godere sempre di più e rendere il mio potenziale al meglio, quindi essere, esprimermi al meglio e godere al meglio della mia vita. Mi sembra sempre più possibile la collaborazione, la risonanza con le altre persone, che è stato, quindi sono due cose, quindi riacquisire sempre più leggerezza, quindi sentirmi più leggero, ma anche grazie a delle persone che ti alleggeriscono la vita e ti rendono la vita più gioiosa, quindi per giocare insieme. Una volta a casa, tornata a casa, vabbè, vado a prendere subito mia figlia, perché ho quattro giorni che non la vedo, il nostro modello è proprio per vivere il più possibile con la famiglia, bagnetto in piscina, godermi la casa che è meravigliosa, e grazie a tutti questi corsi di formazione che faccio, insomma mi sto creando un modello di vita molto funzionale per me, mi rende gioioso e mi permette comunque appunto di manifestarmi sempre al meglio. Sorpresa e leggerezza, ho due parole. Grazie a Patrizia e a tutti i magnifici collaboratori, anche quello nuovo di questa volta, il videomaker nuovo, grande. Grazie Daniele, grazie Virginio, vabbè, Franca, e poi lo staff che è stato di casa di Devine Connection. Grazie.